Le croate del Prinzi Zagabria hanno vinto la Women's Softball European Cup disputatasi sul campo del Porta Mortara a Novara. In finale hanno battuto per 8-3 la formazione polacca delle Panders Roklo. Per la formazione di casa del Porta Mortara, ottimo terzo posto nella finalina disputata contro le francesi delle Grizzlies de Grenoble per 13-5. Complessivamente dal 19 agosto sul terreno novarese sono... Sagra della Patata, a Monte Crestesi da giovedì 22 a lunedì 26 agosto, la trentesima edizione. Tutte le sere dalle 18.30 apertura del ristorante con servizio ai tavoli, spettacoli, danze e spazio giovani. Ti aspettiamo!